Che autunno ci dobbiamo aspettare? Sono tante le opere pubbliche che Arezzo sta attendendo, però in alcuni casi, ad esempio la caserma dei vigili urbani, c'erano delle problematiche importanti. Come siamo andati avanti su questi fronti? I lavori stanno andando avanti, ci sono diversi cantieri che partiranno a settembre, due fra tutti Poggio del Sole con il Bastione, la rotatoria di Via dei Carabinieri che partirà anch'essa a settembre, ci sono in questo momento già i lavori in corso. Via Vittorio Veneto che è partito, il turno del Baldaccio che sta andando avanti a ritmi serrati, a settembre inizierà proprio la fase di spinta del monolite sotto la ferrovia, anche la nuova caserma dei Carabinieri sta andando avanti, ci sono stati dei problemi per quanto riguardava l'approvvigionamento e alcune dinamiche di cantieri che però verranno superate a brevissimo e finalmente ripartiremo anche là. Lì c'è una data di partenza? Ancora non la sappiamo, comunque stiamo parlando con la ditta, stanno parlando a livello tecnico gli uffici nostri con la parte tecnica della ditta e stanno concordando anche gli ultimi aggiornamenti per poter poi dopo ripartire con i lavori.